Ho ricevuto questa parola da parte di Dio. Io ho ristabilito l'artare dei profumi di questa tenda. Sono io che ho ripristinato il sacrificio della tua lode. Sono io che ti ho mostrato le porte di accesso a questo luogo. La tua lode, Chiesa, è salita a me da parecchio tempo. Il profumo della tua lode mi ha raggiunto, dice il Signore. Ha raggiunto le mie stanze, ha raggiunto le mie narici. Per questo è da tempo che ti trattengo nella mia presenza. Perché ti sto formando, ti sto equipaggiando da diversi mesi. Senza che tu lo sai, ho spasso il mio spirito sopra i tuoi giovani. Affinché tutti foste equipaggiati. Ora te ne stai rendendo conto perché un rumore di battaglia si sta avvicinando. E tu stai intensificando la tua lode a me. Questa è la chiave che ti farà vincere, dice il Signore. Continua a versarti nella lode, io sarò il tuo avvocato difensore. La benedizione che ho preparato per te sarà abbondantemente ripagata. Sarò io a combattere per voi e voi ve ne starete tranquilli, dice il Signore. Alleluia. Il rumore della battaglia sarà fermato dal rumore della pioggia. E i tuoi nemici saranno dispersi, dice il Signore. Come un vento che soffi dentro me, adesso so che sei per me la via. Se la forza che cresce dentro me, compri, Signore, il tuo voler in me. Come un vento che soffi dentro me, adesso so che sei per me la via. Se la forza che cresce dentro me, compri, Signore, il tuo voler in me. Alleluia.